Che cosa dobbiamo fare per evolvere interiormente, dato che l'evoluzione in tal senso è ineluttabile? Dobbiamo a poco a poco e con fatica inoltrarci nel profondo di noi stessi, aprendo le porte con l'ausilio della chiave, cioè con l'aiuto del filo di Arianna, che altro non è se non l'archetipo del conosci te stesso. Che cosa dobbiamo fare per evolvere interiormente, dato che l'evoluzione in tal senso è ineluttabile? Dobbiamo a poco a poco e con fatica inoltrarci nel profondo di noi stessi, aprendo le porte con l'ausilio della chiave, cioè con l'aiuto del filo di Arianna, che altro non è se non l'archetipo del conosci te stesso. Grazie